Allora, buongiorno amici, scusate la voce, la mise e tutto, sono in pigiama perché stamani ho l'influenza, ho la febbre, mal di gola, un naso pieno di raffreddore, insomma è tutto, va bene Sì, chiaramente la molla è la solita, è questa strana guerra in Ucraina strana per come è cominciata, strana per come è gestita, strana per come finirà strana per i commenti che sono stati fatti nei mesi dai nostri giornalai che andavano a passare le seratine nei salottini della Lily Gruber o della Rai o insomma di Giovanni Floris eccetera, di martedì E poi la questione, non solo la questione della terra, dello Stato, della dignità, dell'autodeterminazione eccetera, del popolo palestinese, ma in questo momento come quando ci sono le urgenze e la questione sono le migliaia di persone morte, tra cui migliaia, migliaia, migliaia lo voglio ripetere, migliaia di bambini e bambine morti male, gente schiacciata sotto le macerie gente che muore giorni dopo perché non ci sono elettricità, gasolio, benzina eccetera per attivare i mezzi di soccorso e smuovere queste macerie quindi voi provate a pensare, no? genitori che sotto tonnellate di calcinacci hanno i figli bambini, sanno di avere i figli o i genitori o la moglie o un fratello o una sorella e via dicendo e hanno solamente le mani per scavare e se a queste persone malauguratamente gli venisse come dire la curiosità di guardare un TG quantomeno i nostri si deve trovare la faccia di certi israeliani che dicono appunto che stanno combattendo contro il male che non sono persone palestinesi ma sono animali e che la bomba atomica su Gaza e così abbiamo risolto e così via e così via o i soldati israeliani che intervistati hanno detto io sto servendo il mio paese ma il tuo paese è questa roba qua? cioè i tuoi nonni erano nei fornicrematori che ne so ad Auschwitz a Buchen a Bergen-Belsen e così via e te sei questa roba qua? cioè tuo babbo e tua mamma ti hanno messo al mondo per fare questa roba qua? e questo servire il tuo paese? te sei un nazista te sei un nazista come quelli hanno gassato i tuoi nonni te sei un nazista tu stai servendo il quarto Reich caro amico e perché ho fatto cioè queste cose le hanno dette tutte le stanno dicendo i giornalisti onesti e qualche politico onesto stanno facendo centinaia di video perché è una situazione drammatica allora noi abbiamo anche l'hanno già scritto in tanti hanno fatto i video eccetera anche io ho scritto due stupidaggini come si fa tutti abbiamo addirittura in questi giorni i medici palestinesi insomma palestinesi quelli che stanno nella striscia di Gaza che operano alla luce dei cellulari e udite udite fanno gli interventi chirurgici e le medicazioni in assenza di anestesia qualcuno potrebbe non capire cosa vuol dire questo qualcuno non è mai stato in ospedale non ha mai avuto un incidente sul lavoro e quindi al pronto soccorso ci hanno lavorato sopra o qualche intervento chirurgico e che quindi col posto operatorio urli che ti diano dell'antidolorifico e ti mettono la flebo e così non senti più un cazzo ecco qui siamo a livello invece che voi prendete un seghetto a ferro quelli con i denti fini e vi segate le ossa di una gamba vedete un po' che esperienza possa essere questo anche sui bambini anche sui bambini questo quindi voi pensate dei genitori o dei fratelli più grandi debbono tenere fermi dei neonati dei bambini degli adolescenti mentre qualcuno gli sega una gamba con un seghetto a ferro o gli tronca un dito con le forbici da pollo allora questa cosa qui veramente cioè mette in difficoltà anche pensarla questa cosa anche provare a dire qualcosa perché ma dove cazzo siamo finiti perché qui non abbiamo e finisco appunto per quello ho fatto il video ci arrivo non abbiamo solo una classe giornalistica vergognosa vergognosa dei servi dei lacchè dei raccatta palle gente che deve andare a lavare latrine con tutto il rispetto di chi le latrine le lava le lava perché ha bisogno del pane questi dopo l'università vanno mandati a lavare le latrine i cesti alla turca perché non si può continuare a negare delle cose in questi salottini televisivi perché sei di parte perché il tuo editore ti paga lo stipendio qui siamo di fronte a bambini che vengono amputati senza anestesia hai una vaga idea di cosa voglia dire fallo ai tuoi figli ai tuoi figli torna a casa e faglielo ai tuoi figli segagli una gamba col seghetto tagliagli un polso con le tronchesi fallo fate questa esperienza buffoni allora da un lato abbiamo questi servi questi lacche questa gente senza dignità che si fanno chiamare giornalisti poi abbiamo i degni compari che sono i nostri politici italiani gran parte gran parte dei quali non è migliore dei giornalisti perché qui si fa si fanno le campagne elettorali anche sui cadaveri oramai tranquilli dio patria e famiglia sono mamma sono Giorgia ammazza è mamma fossi la tua figliola avrei paura però abbiamo anche un'Europa a un livello imbarazzante la von der Leyen che mesi fa era a bucia era fissa a stringere mani a piangere sulle fosse do cazzo è do cazzo sei e finisco per dire come tocca prendere atto a che livello siamo precipitati c'è stata due giorni fa la partita Fiorentina Juventus giocata a Firenze laddove la Fiorentina ha perso 1 a 0 praticamente la totalità della curva Fiesole e forse non solo quella anche altri tifosi presumo hanno chiesto che non venisse giocata la partita questo non è stato accettato dalla federazione calcio e loro hanno disertato la partita e sono andati a spalare il fango nella piana di Sesto Campi Bisenzio Capalle eccetera dove ci sono famiglie in condizioni disperate aziende che non riapriranno piccoli artigiani che falliranno e comunque chi ha provato un'alluvione dove l'acqua ti porta via tutto e quello che rimane è da buttare perché è l'ercio di gasolio di fango e tutto chi l'ha provata lo sa cosa significa tu non hai più niente nemmeno la foto delle medie non hai più niente a fronte di questa situazione ci sono stati allo stadio di Firenze al Franchi nella zona degli Juventini ci sono stati i cori sfottò verso gli alluvionati ecco io penso quando arriviamo a questo livello di disumanità di disconnessione dalla realtà tutta questa roba tutta questa storia non può che finire male noi abbiamo il Mediterraneo in questo momento che di fronte alle coste di Israele di Gaza eccetera Palestina insomma ci sono una marea di navi da guerra americane sommergibile nucleare atomico americano e naturalmente tutte le basi in allerta le basi Nato noi siamo ce l'abbiamo fin dentro il buco del culo le basi Nato ecco no ma che ti pare che tirino ma che ti pare che attacchino perché poi se no la Siria l'Iran poi la Cina con la Russia ma che ti pare un cazzo questi questi che ho detto fino a ora i giornalisti nei salottini tv questi politichicchi servi questi tifosi del cazzo che è il popolo noi siamo circondati da gente in queste condizioni che uno perde la casa perde tutto gli muore anche qualcuno e questi fannicori a sfottò siamo a cazzeggiare come facciamo a sperare usiamo sperare sì diciamo sperare che tutta sta storia si fermi immediatamente che si smetta di ammazzare gente bambini ragazzine e che non deflagri questa storia in una guerra globale alla fine o comunque che faccia esplodere metà Medio Oriente che muoiano milioni di persone che abbiamo poi una stagione di attentati di gente si farà esplodere nelle stazioni negli stadi nei cinema nei supermercati come facciamo a sperare che questo non succeda quando uno va in televisione a dire menzogne anche davanti ai morti e dice lo dici te che è morto che l'hai contati te o quando uno va allo stadio appunto a fare i cori scherzosi cazzeggiatori offensivi naturalmente su gente non ha più nulla o che magari gli ha anche morto alcuni in casa affogato ma ando cazzo vogliamo andare abbiamo creato un mostro altro che l'interconnessione il digitale la fibra ottica qui abbiamo altri problemi altro che fibra ottica qui è morta qui è morta l'umanità l'unica volta è la frase della Fonderlein che ha un senso buona giornata